A fare il corso di investire in immobili mi ha spinto il fatto che sono sempre stato convinto che si potessero fare soldi con gli immobili, so che altre li fanno e volevo imparare anche io come si fanno. Una cosa che mi ha compito è il fatto che già da subito si possono recuperare i soldi utilizzati per fare il corso utilizzando le tecniche che ci ha insegnato Alfio e quindi fare soldi. Consiglierei questo corso a un amico perché impara delle tecniche che ti permettono di lavorare meno ore durante il giorno e essere più libero e tenere comunque un buon stile di vita. Grazie. 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 Grazie.